I ravioli mal di schiena sono dei ravioli fatti l'antica, come faceva mia ronna, conditi con un sugo semplicissimo per risaltare il ripieno di solo erbe, composto da olio extravergine d'oliva, pinoli, bietoline e pomodoro con cassè e un pizzico di sale. Assolutamente no, perché hanno una sfoglia sottilissima, tanto che al cuocerli a volte rischia un pochino di rompersi. Ma questo perché? Per contenere al meglio e dare più risalto al ripieno, composto da bietola, borragine coltivate da noi, maggiorana, cicerbite e talegua. Ci vuole circa un mese, perché le bietole e le borragine prima devono essere coltivate, devono crescere, bisogna preparare il terreno, quando sono pronte poi vengono tagliate, pulite, lavate, scottate ed infine da lì si inizia a fare il raviolo mal di schiena. Grazie.